Vi chiedo di accogliere con un grande applauso Gianluca Gotto, che presenterà il suo libro Profondo come il mare, leggero come il cielo, presentato da due giovanissimi allievi dell'AFP, Elia Romana e Alessia Tallone. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a questa quinta serata di questa prima edizione del Ponte del Dialogo. Un grandissimo piacere per me essere questa sera su questo palco. Io, come mi ha citato prima Ginevra, mi chiamo Alessia e mi sono chiesta in realtà in questi giorni in che tipo di veste potessi salire su questo palco questa sera. Siccome ho partecipato a numerosi incontri, ho sempre visto che sono stati immediati da persone che avevano grandissime competenze alle spalle. E io questa sera voglio, attraverso il libro di Gianluca, portare un punto di vista differente. Voglio trasmettervi quello che è stato Gianluca per me in questi anni, perché ho avuto modo di conoscerlo. Scusate l'emozione. Grazie mille. Ho avuto un modo di conoscerlo circa tre anni fa. Ho iniziato in realtà leggendo il suo blog innanzitutto e poi mi sono lanciata nella lettura dei suoi libri. E sono capitati in un momento calzante, penso, della mia vita. Tre anni fa il mondo si è fermato ed è stato un periodo, il periodo pandemico è stato difficile per tutti quanti noi. E attraverso la tua scrittura e la lettura dei tuoi libri io sono riuscita veramente a uscire da quel periodo un po' difficile a livello emotivo che ho vissuto. E per questo ti ringrazio tantissimo. E mi ricordo che dopo aver letto il primo tuo libro, che era Le coordinate della felicità, ti scrissi anche un messaggio a cui mi rispondesti in modo molto simpatico. E io mi augurai un giorno di incontrarti per il mondo, te e la tua compagna Claudia, perché all'epoca Asia non c'era ancora. Non avrei mai pensato in realtà di poterti incontrare a due passi da casa mia. E quindi la vita sa essere veramente straordinaria quando la viviamo con lo spirito giusto. E sono molto contenta di condividere questa serata con un ragazzo molto giovane, che è Elia Romana, e che ho scoperto in questi giorni avere delle affinità molto simili alle mie, per cui ringrazio anche Elia e tutte le persone che mi hanno permesso di concedermi questa sfida questa sera. Grazie mille. Buonasera a tutti, mi chiamo Elia, e appunto anche io volevo ringraziare chiunque ha permesso l'organizzazione di questa serata. Volevo ringraziare anche Gianluca Gotto, e spiegarti un po' perché questa serata è la chiusura di un cerchio. All'età di vent'anni, dopo un anno di università, decise anch'io di prendere un biglietto solo andata per l'Australia, e fu un'esperienza bellissima, tant'è che decisi di rifarla e andare in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda l'ho vissuto per due anni e mezzo. Ora, immagino che per un genitore, per un zio-zia, i nonni, sia comunque difficile accettare anche la partenza di una persona cara, però la cosa divertente è stata che mia zia si è appassionata molto ai tuoi libri, e lei leggendoli ci ha visto a me in questi libri, e quindi ha capito la mia ricerca dall'altra parte del mondo, e quindi ti volevo ringraziare tantissimo di questa cosa perché hai permesso un dialogo, ecco. E volevo chiederti, dato che noi ci siamo presentati, se potevi anche tu fare la stessa cosa e presentarti. Intanto grazie, grazie mille. Grazie a voi due, innanzitutto per questa bella condivisione. Siamo stati noi tre là fuori per 5-6 minuti, ma non avete detto niente, siete stati molto bravi a tenere tutto per questo momento. E' molto emozionante ogni volta rendermi conto di quanto può essere grande il potere e l'impatto della condivisione, che sia attraverso un libro, che sia attraverso un blog, una forma d'arte, che sia attraverso semplicemente la conversazione con qualcuno. La condivisione, dal mio punto di vista, salverà il mondo. E quindi è molto bello che siamo qui, questa sera, su questo palco. Noi tre, ma immagino anche tante altre persone, per, diciamo, come il risultato di una condivisione, magari partita anni prima, e come anche punto di inizio di una nuova condivisione. Spero che questa sia una serata piacevole per tutti noi, e che ognuno di noi possa tornare a casa, alla stanza d'albergo, oppure ovunque andrà a dormire stasera, con qualcosa di positivo e di utile e di motivante a cui pensare. Quindi grazie di cuore. Due parole su di me. Io sono, mi chiamo Gianluca Gotto, sono nato a Torino nel 1990, però diciamo che non ho mai visto in Torino il mio luogo nel mondo, e questo è un sentimento che ho avuto fin da quando ero un ragazzino, e che se da un certo punto di vista, un po' come tutte le cose della vita, che siano belle o che siano brutte, che siano positive o negative, indipendentemente da come le giudichiamo, hanno sempre un'altra faccia. E quindi se questo sentimento di voler scappare lontano da un lato era fonte di sofferenza, dall'altro è stato un ottimo motore per spingermi ad andare lontano, a visitare posti nuovi e a vivere alcune delle esperienze migliori della mia vita, come tu puoi ben immaginare, visto che anche tu hai avuto un percorso molto simile. Sono andato a vivere prima in Australia, poi in Canada, poi ho svolto tanti lavori diversi nella mia vita, sono stato un operaio, un cameriere, un panificatore, un pizzaiolo, e poi a un certo punto mi sono detto voglio fare della mia più grande passione, che era la scrittura, un lavoro, e quindi ho iniziato a scrivere articoli per siti web, e questa professione completamente in remoto mi ha dato anche la possibilità di iniziare a vivere in giro per il mondo, a vivere viaggiando. E quindi io dal 2015 non passo più di 5-6 mesi nello stesso posto del mondo, vivo principalmente in Asia, principalmente a Bali, però in realtà vedo nel mondo casa mia. Cerco anche di sentirmi a casa in qualunque punto io mi trovi, e quindi questa sera a casa per me è dronero, ed è questo atteggiamento... Questo atteggiamento contribuisce a farmi vivere la vita con molta serenità. Quindi sono qui stasera a presentare quello che è il mio quinto libro, Profondo come il mare, leggero come il cielo, che è anche il mio primo libro, diciamo, il mio primo saggio, per così dire. Non è proprio un saggio nel senso tradizionale del termine, però comunque ho scritto quattro romanzi, questo qua invece è un saggio, diciamo, sul buddismo, e su come portare il buddismo nella nostra quotidianità. Hai anticipato benissimo quella che poteva essere la mia prima domanda. Abbiamo detto che appunto il titolo è Profondo come il mare, leggero come il cielo. Il sottotitolo però è altrettanto interessante ed evocativo, un viaggio dentro se stessi. Io penso che viaggiare in un certo senso sia molto semplice, ma il viaggio dentro se stessi è forse quello più difficile da intraprendere in assoluto, che non tutti poi hanno sempre il coraggio di fare. E quindi ci piacerebbe chiederti, in questo senso, se tu sei riuscito sicuramente a farlo, questo viaggio dentro te stesso, attraverso l'avvicinamento col buddismo, ci piacerebbe chiederti in che modo ti sei avvicinato al buddismo. Intanto è il più difficile, il viaggio interiore, perché? Perché ognuno di noi, se si ferma un attimo e chiude gli occhi, e diciamo che lascia il mondo e le sue distrazioni, il suo rumore e i suoi stimoli al di fuori, e inizia a guardarsi dentro, trova innanzitutto la sofferenza. Non troviamo qualcosa di piacevole, non troviamo qualcosa di felice, di gioioso, di luminoso. Quando noi chiudiamo gli occhi e andiamo a fare una sorta di introspezione, emerge subito una qualche forma di sofferenza, che può essere qualcosa di molto flebile, un fastidio, un pensiero che non se ne va, un pensiero che non riusciamo a controllare, un istinto spiacevole, oppure può essere qualcosa di estremamente spiacevole, come anche una forma di depressione. Per questo il viaggio interiore è il più difficile, ma per questo motivo è anche quello più importante, perché è quello che ci porta non tanto a conoscere il mondo, non tanto a conoscere gli altri, ma a conoscere noi stessi. E se noi impariamo a conoscere noi stessi, riusciamo anche a impostare la nostra vita sui binari giusti. Ma io tutto questo non lo sapevo, minimamente, proprio perché, come accennavo prima, io ho avuto una vita molto dinamica. A vent'anni ho lasciato Torino e ho lasciato l'università, ho preso un biglietto di sola andata per l'Australia, e da quel momento ho iniziato un percorso lungo nove anni, da 20 a 29 anni, in cui fondamentalmente io ho ricercato la felicità intorno a me, nel mondo esterno, nel contesto esterno. E il mio modo di ragionare era molto semplice, era questo. Se io non sono felice, se non sono soddisfatto, se sto male, devo andare a cercare intorno a me la causa di questo malessere. E ragionando in questo modo, nel corso di questi nove anni, io ho cambiato tantissime volte la mia vita, perché a volte era il lavoro che non mi dava soddisfazioni, e quindi cosa facevo? Cambiavo il lavoro. A volte mi rendevo conto che frequentavo delle persone che invece di aiutarmi a essere la miglior versione di me stesso, mi trascinavano verso il basso, mi portavano ad essere la peggior versione di me stesso, e allora cambiavo le mie frequentazioni. A volte era il luogo in cui mi trovavo, qui non mi trovo bene perché semplicemente non è il posto in cui mi sento a mio agio, e allora cambiamo questo luogo, andiamo lontani, andiamo da un'altra parte. E questo modo di ragionare funziona, perché è molto importante lavorare anche sul nostro contesto esterno. Nessuno di noi è qui in questa vita per sopportare, per essere umiliato dagli altri, per farci fare del male, non siamo qui per portare la croce, per accettare la vita in una maniera passiva, e convincerci che in fondo siamo condannati all'infelicità, o peggio ancora che noi siamo sfortunati e che c'è qualcuno che è più fortunato di noi. Noi abbiamo il diritto, e anche in un certo senso il dovere, nei confronti di noi stessi e del dono della vita, di cercare di vivere una buona vita, e per vivere una buona vita dobbiamo occuparci anche delle cose che ci sono intorno a noi, perché queste contribuiscono al modo in cui noi ci sentiamo. Quindi io ho fatto un buon lavoro in questo senso, perché nel giro di nove anni ho cambiato tutto, e mi sono ritrovato a 29 anni ad avere il lavoro dei miei sogni, scrivevo sul mio blog appunto, ma avevo appena consegnato il mio primo romanzo, che sarebbe stato pubblicato da una delle più grandi case editrici italiane, avevo la donna della mia vita al mio fianco, frequentavo le persone giuste con cui mi trovavo in sintonia, vivevo nei luoghi in cui mi sentivo a casa, la mia vita esternamente era perfetta, ed era il risultato di questo mio lavoro lungo nove anni. Qual è il problema? È che per quanto sia importante lavorare in questo senso, non basta. Se noi ci occupiamo esclusivamente di quello che c'è al di fuori di noi, noi stiamo costruendo una felicità che è sì reale, e infatti la mia era reale, ma è estremamente fragile ed è temporanea. Perché? Perché tutto quello che c'è intorno a noi è destinato a cambiare. Che a noi piaccia oppure no è così. Una delle grandi verità della vita è che tutto cambia, sempre. E quindi che cosa succede? Che noi magari proiettiamo la nostra felicità su quello che abbiamo intorno, su certe persone, sul nostro lavoro, sul luogo in cui viviamo. Ma poi queste cose cambiano, e l'abbiamo visto tutti nel 2020. All'improvviso, se noi eravamo felici perché avevamo un lavoro, quel lavoro potevamo non averlo più, temporaneamente oppure a tempo indeterminato. Possiamo perdere le persone, perché le persone se ne vanno da noi, o perché le persone muoiono, oppure perché le persone non sono più in grado di darci quello che ci davano prima. I luoghi che amiamo potrebbero diventare inaccessibili, potrebbero cambiare, potrebbero non darci più alcuna gioia. Se noi facciamo basare il nostro stato d'animo soltanto su quello che abbiamo intorno a noi, ecco che noi stiamo facendo qualcosa di estremamente rischioso, di pericoloso. Perché quello che c'è intorno a noi è destinato a cambiare e non dipende da noi, non è sotto al nostro controllo. Quindi che cosa è successo? Che un giorno, mentre mi trovavo a Bali, una zanzara si è posata sulla mia pelle e nel togliermi un po' di sangue mi ha trasmesso la dengue, che è una malattia tropicale, una febbre tropicale, diciamo così. E io, che ero così abituato a vivere solo ed esclusivamente all'esterno, a cercare di godermi questa vita che avevo costruito, non ho dato retta ai segnali che arrivavano da dentro e quindi la malattia ha preso piede, ha trovato terreno fertile e a un certo punto sono stato costretto ad andare in Thailandia per farmi curare. Non sono neanche riuscito ad arrivare in ospedale perché sono svenuto prima due volte e mi hanno dovuto trasportare all'ospedale. Lì sono stato per sei giorni ricoverato. Sono guarito dalla dengue, ma durante quei sei giorni di ricovero qualcosa si è rotto dentro di me. O meglio, si è scatenato dentro di me qualcosa di assolutamente caotico, incomprensibile e totalizzante che non mi permetteva più di godere delle cose bellissime che avevo intorno a me. E a quel punto mi sono detto tutti i trucchi e tutti i metodi che io conosco non possono funzionare. E perché non possono funzionare? Perché io sono abituato a ragionare in questo senso. Se sto male, cambio le cose intorno a me finché non sto bene. Ma cosa succede quando il problema non è fuori, ma è dentro? A quel punto devi necessariamente fare un viaggio dentro di te. Che si può fare in tanti modi. Nel buddismo proprio, o almeno negli ambienti buddhisti, si usa spesso questa metafora. Cioè che la nostra serenità, la nostra felicità, è come la cima di una montagna. Quando siamo lassù, siamo in compagnia di altre persone, diverse da noi, con un percorso diverso, ma la vita è uguale per tutti noi. Perché siamo sulla cima della montagna. Non c'è molto spazio, la vista è uguale per tutti noi. Proviamo tutti la stessa sensazione. Il modo in cui però noi siamo arrivati sulla cima di quella montagna è diverso, è unico, e va benissimo così. Da una prospettiva buddista non c'è un modo giusto di essere felici, di essere sereni, di vivere la vita. Ognuno deve trovare la sua strada per arrivare lassù, per stare bene. La mia strada è stata quella del buddismo. Una mattina mi trovavo a Bangkok, mi svegliai prestissimo, prima ancora dell'alba, perché questo malessere che avevo dentro, questo malessere che aveva due facce, da un lato era un'agitazione costante e dall'altro era invece la letargia tipica della depressione. In base alla giornata era una o era l'altra. Questo malessere mi svegliò molto presto, iniziai a camminare per la città, perché a Bangkok fa caldissimo dopo le otto, le nove di mattina, quindi se vuoi farti una passeggiata devi farlo prestissimo. E all'alba io notai per la prima volta qualcosa che avevo visto tante volte ma non avevo mai notato, e cioè il sorriso di un monaco buddista. E quello era il sorriso di una persona che aveva trovato dentro di sé qualcosa che non era attaccabile dalle zanzare della vita. Così mi avvicinai, gli chiesi aiuto, lui mi invitò ad entrare dentro il suo tempio, iniziamo a parlare e quello fu l'inizio di questo mio viaggio interiore, diciamo, seguendo l'insegnamento del Buddha. Esatto. Io invece volevo chiederti, dato che abbiamo assodato che il tema di questa serata sarà il buddismo, chi è Buddha e perché è considerato un rivoluzionario? Il Buddha storico, si dice storico perché nel buddismo non c'è un Buddha. Anche per questo il buddismo è difficile considerarlo, almeno dal mio punto di vista, una religione, almeno per come lo intendo io. Perché noi siamo abituati alle religioni in cui c'è un dio e si dice che tu devi credere in quel dio e in nessun altro e questo già crea molti conflitti. Nel buddismo non c'è il Buddha, c'è un Buddha. Il Buddha storico era un principe nato in Nepal che fondamentalmente aveva vissuto per 29 anni della sua vita dentro una grande illusione. perché suo padre, che era uno dei regnanti della zona, l'uomo più potente della zona, aveva ricevuto una profezia da un bramino prima della nascita del suo unico figlio e questo bramino aveva detto tu avrai un solo figlio e questo tuo figlio potrà diventare un grande regnante seguendo il tuo esempio oppure un grande leader spirituale. E il padre si era talmente spaventato all'idea che suo figlio non seguisse le sue orme e non prendesse diciamo in carico il regno alla sua morte che pensò questo. Fece un ragionamento in un certo senso complesso ma sotto altri punti di vista molto semplice molto terra a terra. Lui si chiese che cosa posso fare io per fare in modo che mio figlio non se ne vada mai da questo posto da questo mio regno che non abbia il desiderio di andare altrove e noi che cosa possiamo fare per cercare di tenere vicino a noi di una persona. È qualcosa di molto comune questo. Noi possiamo pensare di dare a questa persona tutto ciò che desidera. E il padre di Siddhartha questo era il nome del principe fece esattamente questo. Per 29 anni fece in modo che il figlio ricevesse tutto ciò che desiderava prima ancora che avesse il tempo di desiderarlo. Sesso cibo lusso comfort di ogni tipo aveva tutto quello che voleva. Era una vita incentrata sul piacere quella di Siddhartha eppure a 29 anni Siddhartha non era felice non era soddisfatto nonostante avesse tutto. Il suo unico desiderio era quello di uscire dal regno e andare a vedere com'era la vita là fuori. Decise di farlo e nonostante il padre si sforzò di preservarlo ancora una volta dalla verità ordinando i suoi uomini di cacciare dal paese vicino al castello tutti i vecchi tutti i malati tutte le forme di sofferenza mettere soltanto persone giovani attraenti sorridenti e felici lui per sbaglio incontrò durante le sue visite un malato un anziano e poi vide un corteo funebre e quindi si rese conto che aveva vissuto dentro un'illusione. La verità non era quella che lui credeva la verità è che la vita è sofferenza e fu uno shock tale che decise di abbandonare completamente il regno la sua ricchezza e tutti i suoi i suoi lussi i suoi piaceri per scegliere la strada completamente opposta quindi divenne una sorta di asceta iniziò a girare per l'India smise di mangiare digiunava per giorni interi non dormiva si faceva del male flagellava il suo corpo perché lui pensava se io non ho trovato nulla di vero nel piacere più intenso forse riuscirò a trovare qualcosa di vero sulla vita nella sofferenza più estrema forse abituandomi a soffrire non soffrirò più andò avanti così per vari anni ed era talmente diciamo così apprezzato per i suoi sforzi per il suo ascetismo che iniziò ad avere un seguito ma poi un giorno una ragazza gli si avvicinò con l'ingenuità diciamo così di un cuore puro e gli offrì una ciotola di riso e lui vedendo questa ragazza i suoi occhi il suo gesto pieno di compassione accettò per la prima volta il riso persi immediatamente tutti i suoi seguaci ma comprese che la soluzione nella vita non poteva essere quella di morire di fame non poteva essere quella di soffrire perché se noi soffriamo non riusciamo a dare nulla di buono agli altri e nemmeno a noi stessi ovviamente quindi si rese conto che nel piacere più sfrenato non aveva trovato né la felicità né la verità nella sofferenza più estrema non aveva trovato né la felicità né la verità e quindi che cosa poteva fare perché lo considero un rivoluzionario perché lui disse io finora nella vita ho fatto una cosa fondamentalmente ho sempre cercato di fare qualcosa di raggiungere qualcosa di ottenere qualcosa anche semplicemente una risposta sul senso della vita provo a fare qualcosa di rivoluzionario smetto di cercare smetto di fare mi siedo ai piedi di un albero chiudo gli occhi e me ne sto in questa posizione finché invece di trovare la verità la verità emergerà dentro di me mi sarà rivelata in un certo senso svuoto me stesso per consentire alla vita di fare entrare dentro di me la verità se io sono pieno di pregiudizi di idee di opinioni non posso far entrare nulla mi svuoto e permetto all'universo di riempirmi rimasi in quella posizione per 49 giorni e in una notte di luna piena circa 500 anni prima della nascita di Gesù Cristo Siddhartha ebbe l'illuminazione e divenne il Buddha che significa il risvegliato a quel punto lui aveva trovato una soluzione a che cosa? alla sofferenza dell'essere umano perché vedendo la verità sulla vita la verità ultima aveva capito che la sofferenza non è causata da quello che ci succede la sofferenza è una scelta che noi prendiamo per noi stessi inconsciamente ma che può essere superata e quindi si chiese devo condividere o no quello che ho scoperto sulla vita sulla sofferenza su come essere sereni per sempre decise di farlo e quindi così diede il via a quello che oggi chiamiamo il buddismo grazie abbiamo introdotto la serata parlando di quanto sia forte il potere della condivisione e mi piacerebbe questa sera condividere con te un momento che in questi giorni ho vissuto durante un'altra presentazione diciamo che le tematiche che sono state affrontate sono state numerose ma ce n'è una in particolare che mi ha colpito e che ho ritrovato anche nel tuo libro in un certo senso ed è questo filone della scrittura come terapia una modalità per uscire dalla sofferenza e ho partecipato a questa conferenza di questa poetessa monregalese di Mondovì mi dicevi prima che anche tuo nonno era di Mondovì in cui appunto parla del fatto che la scrittura l'ha aiutata ad esprimere quello che aveva interiormente per te la scrittura ha avuto lo stesso ruolo la stessa funzione? Ha avuto questa funzione ma secondo me bisogna fare un passo indietro dobbiamo chiederci perché la scrittura ha avuto questo ruolo e bisogna innanzitutto capire che la scrittura è solo uno dei modi che noi abbiamo di esprimere noi stessi la vera domanda è perché abbiamo il bisogno di esprimere noi stessi e io nel tempo mi sono fatto quest'idea quando una persona viene da noi e sta male o anche non viene da noi noi notiamo che qualcuno magari nella nostra famiglia il nostro partner un nostro genitore un fratello un figlio sta soffrendo noi proviamo l'istinto di aiutare questa persona magari questa persona viene a chiederci aiuto magari no questo è indifferente in ogni caso quando noi abbiamo questo istinto di aiutare qualcuno che sta male tendiamo a voler far qualcosa per lui e soprattutto a volergli indicare una strada noi ragioniamo in questi termini che se qualcuno ha bisogno noi dobbiamo andargli e dargli delle indicazioni dobbiamo dirgli quello che deve fare nel tempo ho capito una cosa e cioè che molte volte le persone che soffrono non hanno bisogno di un consiglio non hanno bisogno di un giudizio non hanno nemmeno bisogno che qualcuno gli dica come stanno le cose perché le sanno molte volte le persone che soffrono hanno bisogno esclusivamente che qualcuno le ascolti che qualcuno gli dia la possibilità di esprimere quello che hanno dentro e che cosa succede quando nessuno ti ascolta questa è una situazione che io ho vissuto nella mia adolescenza all'inizio della mia adolescenza in famiglia c'era un po' un momento di crisi i miei genitori si stavano separando ognuno doveva pensare diciamo alla propria vita alla propria nuova vita in un certo senso e quindi io mi trovavo a sentire di non essere ascoltato e che cosa puoi fare in questi casi da un lato ti tieni tutto dentro ed è così che in un certo senso si sviluppa il trauma e le ferite che già magari hai diventano ancora più profonde al punto che ti sembrano quasi poi incurabili oppure puoi trovare una valvola di sfogo che purtroppo non è una persona che ti ascolti ma devi trovare qualcosa che sia simile a una persona io ho iniziato a scrivere in quel periodo perché? perché mi sono reso conto di una cosa innanzitutto che carta e penna non si negano a nessuno neanche a un carcerato neanche nella situazione peggiore della vostra vita non avrete accesso a un qualche tipo di supporto per poter scrivere e poi perché il foglio bianco è il miglior amico possibile perché il foglio bianco ha due caratteristiche non può rifiutare quello che tu vuoi dargli quindi tu puoi scrivere le peggiori scemenze le peggiori idiozie e lui se ne deve prendere il miglior amico in assoluto e soprattutto non ti risponde non ti dice quello che stai scrivendo è sbagliato non ti giudica non ti critica ti dà la possibilità letteralmente di tirar fuori quello che hai dentro e di lasciarlo su carta quella che all'inizio era veramente per me una valvola di sfogo è diventata negli anni una terapia che porto avanti ancora adesso io ancora adesso ogni giorno mi prendo del tempo per scrivere e non perché qualcuno poi legga quello che scrivo non perché io stesso vada poi a rileggere quello che ho scritto ma semplicemente perché ho la necessità anche se adesso delle persone straordinarie al mio fianco che mi ascoltano ho comunque la necessità di tirar fuori quello che ho dentro e in questo senso la scrittura secondo me è terapeutica poi ognuno di noi di nuovo ha la sua strada per qualcuno può essere scrivere ed è qualcosa che consiglio a tutti di fare magari un diario della gratitudine in cui voi scrivete ogni sera tre cose per cui siete grati magari un diario in cui semplicemente una specie di discarica tutti i vostri pensieri peggiori più diciamo pieni di ansia di paura di distruzione voi li mettete su carta ve ne liberate può essere qualsiasi forma voi vogliate in ogni caso riuscire a tirar fuori questa cosa attraverso la scrittura o attraverso un'altra forma d'arte o attraverso un altro tipo di comunicazione anche parlare da soli serve è un ottimo modo per tirare fuori per l'appunto il malessere che abbiamo dentro e in questo modo anche per vederlo finché dentro di noi il malessere noi non lo vediamo lo percepiamo ma come se sentissimo alle nostre spalle una presenza sappiamo che qua dietro c'è qualcuno ma non sappiamo chi c'è non sappiamo che forma non sappiamo se è grande piccolo se è minaccioso se ci vuole bene sappiamo solo che c'è quando noi tiriamo fuori le cose abbiamo modo di vederle abbiamo modo di vederle su un foglio di carta e a quel punto potrebbe succedere qualcosa di bellissimo e cioè di renderci conto che le nostre paure sono in realtà molto più piccole e molto più sciocche di quello che erano nella nostra mente fuori controllo grazie mille hai più volte sottolineato come questo nuovo libro sia un saggio rispetto ai romanzi ai cui eravamo abituati ti volevo chiedere che difficoltà o che vantaggio hai trovato nella stesura del testo come tante cose della vita io pensavo che quando io pensavo a fare qualcosa e cioè scrivere questo libro mi sembrava estremamente difficile mi sembrava un'esperienza problematica e traumatica quando poi ho iniziato però a farlo in realtà si è rivelato essere qualcosa di molto più semplice e questo vale appunto per tantissime cose della vita quando noi pensiamo alla vita non la stiamo vivendo non la stiamo vivendo con intensità e invece di essere presenti in questo momento in questo luogo in questo nostro presente che è l'unica cosa che abbiamo noi viviamo qui dentro e qui dentro come dicevo prima è molto difficile mantenere il controllo è molto difficile forse la cosa più difficile nella vita in assoluto più di costruire la torre più alta che ci sia più di andare su Marte la cosa più difficile è riuscire a tenere ordinato questo luogo che abbiamo dentro di noi la nostra mente quindi cosa succede quando noi pensiamo alla vita invece di viverla che la vita si trasferisce qua dentro non è più qua fuori è qua dentro e qua dentro essendo tutto fuori controllo la vita viene modellata in delle maniere strane magari anche del tutto incomprensibili ma comunque ci allontaniamo dalla verità e allora io quando pensavo di scrivere questo libro mi dicevo dovrei raccontare qualcosa di traumatico qualcosa di doloroso qualcosa che ti ha fatto stare male che è stato impegnativo sarà difficilissimo riuscirci non riuscire a scrivere il libro arriverai a un punto in cui non vorrei più scriverlo vorrei tornare indietro sarà veramente un compito arduo quando ho iniziato a scriverlo in realtà mi sono reso conto che parola dopo parola pagina dopo pagina capitolo dopo capitolo tutto seguiva un ordine tutto seguiva diciamo un percorso molto armonioso e quindi non è stato difficile scrivere questo libro in realtà è stato uno dei libri più facili che io abbia scritto è stato lungo perché il buddismo è un argomento estremamente ampio e quindi riuscire a condensarlo in un libro che non fosse lungo mille pagine è stato un po' complicato ma a parte quello non è stato assolutamente traumatico anzi come dicevo prima è stata una sorta di terapia andare ad affrontare queste cose che non avevo mai raccontato prima e di cui non avevo mai scritto è stato un modo per rendermi conto della distanza che ho percorso dell'evoluzione che io sono riuscito a mettere in atto rispetto alla persona che ero soltanto tre anni fa e quindi in realtà è stata un'esperienza non soltanto positiva ma anche molto gratificante ecco ci hai fatto questa domanda perché una prima lettura può sembrare ripetitivo ma poi tu ad un certo punto citi di come i libri sul buddismo che tu hai letto funzionano molto sulla ripetizione perché favoriscono l'apprendimento e quindi è una cosa che a me è piaciuta molto che non avevo capito a una prima lettura ma che ho poi capito dopo e anche perché si tratta di un libro che è pieno di termini è pieno di espressioni e di concetti di modi di intendere la vita che sono veramente molto lontani da noi il buddismo è lontano non solo geograficamente ma anche culturalmente ho fatto un'intervista di recente e questa persona mi ha chiesto un po' appunto quali erano le mie pratiche le abitudini buddiste e a un certo punto mi ha fermato e mi ha detto ti rendi conto che quello che fai tu nella tua quotidianità è l'esatto opposto di quello che fa una persona media in Italia cioè non fai nulla di quello che fa la persona media fai l'esatto opposto di quello che fanno loro ed effettivamente perché? perché il buddismo ci invita secondo me ci invita a fare questo ci pone semplicemente una domanda una provocazione ci dice se tu continui a fare le cose che hai sempre fatto perché le hanno fatto i tuoi genitori i tuoi nonni perché bisogna fare così perché tradizionalmente questa è la cosa giusta da fare e soffri come puoi pensare di essere felice di migliorare la tua vita se tu fai sempre le stesse cose otterrai sempre gli stessi risultati e soltanto trovando il coraggio di fare qualcosa che non hai mai fatto prima che troverai delle risposte diverse ed è esattamente questo che ha fatto il Buddha smise di cercare e si fermò perché pensò se cercando non trovo niente magari trovo qualcosa smettendo di cercare lo stesso vale per il buddismo ci invita a fare cose molto lontane dal nostro modo di vivere la vita e quindi nel libro ho dovuto ripetere tante volte certe cose perché mi sembrava l'unico modo per riuscire a fare in modo che il lettore entrasse in sintonia con questi concetti nuovi grazie tu inizi a meditare quando ti trovi in Thailandia a Bangkok precisamente poi a un certo punto della tua vita torni in Europa e partecipi ad un altro incontro meditativo a Lisbona in Portogallo e racconti appunto all'interno del libro che viene posto dalla guida spirituale del momento che si chiama Dalila viene posta ai partecipanti una domanda che leggo e che vorrei insomma chiedere anche a te questa sera Dalila chiede ai partecipanti che cosa avete capito dalla vostra sofferenza e io questa sera lo chiedo a te Gianluca che cosa hai capito dalla tua sofferenza andando a fondo nella mia sofferenza ho capito qualcosa che una conclusione a cui arrivano un po' tutte le persone che seguono un percorso buddista perché poi alla fine questo è uno dei capisaldi del buddismo se noi andiamo a fondo nella nostra sofferenza ci rendiamo conto che quella sofferenza non è nostra che quella sofferenza è parte della natura umana certo in superficie noi possiamo soffrire per mille motivi diversi abbiamo perso il lavoro qualcuno ci ha fatto uno sgarbo abbiamo perso una persona noi cara la vita ci appare ingiusta vorremmo qualcosa che non abbiamo abbiamo infiniti motivi per cui soffriamo ma se noi andiamo a fondo nella nostra sofferenza e la pratica meditativa è questo è penetrare la nostra sofferenza e cercare di arrivare al punto in cui troviamo la verità dentro la sofferenza ci rendiamo conto che non è nostra la sofferenza che noi non soffriamo per un nostro motivo ma che noi soffriamo perché questa è in un certo senso la natura umana o meglio parte dell'esperienza umana è quella di soffrire e non solo umana parte dell'esperienza di ogni forma di vita è quella di soffrire infatti la prima grande verità del Buddha è proprio questa e cioè la sofferenza esiste la prima cosa che lui disse dopo l'illuminazione è questa la sofferenza esiste e non dovremmo dimenticarlo mai perché non dovremmo dimenticarlo innanzitutto perché è l'unica cosa che accomuna noi a tutte le forme di vita ognuno di noi è felice a modo suo ma ognuno di noi soffre a livelli proprio profondi nello stesso identico modo sappiamo tutti che cos'è perché c'è chi non è mai stato felice c'è chi non è mai stato innamorato c'è chi non è mai stato invidioso chi non è mai stato estremamente rabbioso ma tutti noi abbiamo sofferto almeno una volta nella vita questo ci accomuna a tutti e quindi che cosa possiamo imparare dalla sofferenza quando andiamo a fondo ci rendiamo conto che non è una cosa nostra ma che è una cosa della natura umana e questo che cosa cambia in noi innanzitutto il modo in cui noi vediamo noi stessi smettiamo di colpevolizzarci smettiamo di dire tu soffri perché non vali abbastanza tu soffri perché non hai abbastanza tu soffri perché hai sbagliato questo perché hai sbagliato l'altro perché sappiamo inventarci mille storie sui motivi per cui noi soffriamo e siamo molto severi con noi stessi ma smettiamo anche di innanzitutto dare la colpa della nostra sofferenza agli altri ci rendiamo conto che la sofferenza è dentro di noi e non è fuori e poi ci rendiamo conto di che cosa che se questa sofferenza è tipica dell'essere umano e non di Gianluca Gotto come singolo individuo significa che quando gli altri si comportano in una maniera che a noi appare ingiusta cattiva sbagliata in realtà loro non sono mossi da cattiveria sono mossi da sofferenza e questo cambia tutto perché nel buddismo il sentimento più alto che ci sia che poi è anche il pensiero l'intenzione più alta che ci sia è la compassione e come facciamo noi ad essere compassionevoli possiamo in un certo senso pensarci dei santi dei grandi uomini che sono in grado di provare compassione verso gli altri ma questa è una visione secondo me sbagliata perché ci pone in una posizione di subordinazione come se noi fossimo qui e da sopra tutti potessero lanciarci qualsiasi cosa e noi la dovessimo prendere nel buddismo non c'è nessuno qui e nessuno qui nemmeno il buddha siamo tutti sullo stesso livello quando noi ci rendiamo conto che la sofferenza è parte della condizione umana quando qualcuno ci fa uno sgarro quando qualcuno si comporta male quando c'è una situazione che normalmente ci causerebbe sofferenza noi non soffriamo più perché smettiamo di vedere negli altri delle motivazioni di vedere della cattiveria ma ci rendiamo conto che gli altri anche quando sbagliano sono mossi solo ed esclusivamente dalla sofferenza la differenza tra noi e loro è che noi ne siamo consapevoli e loro no ma proprio perché ne siamo consapevoli noi dobbiamo cercare di agire diversamente ed è per questo che il perdono nel buddismo ha una connotazione un po' diversa rispetto ad esempio al cristianesimo o altre filosofie o religioni noi non perdoniamo gli altri perché siamo superiori a loro perché in un certo senso siamo elevati noi li perdoniamo perché noi sappiamo la verità e gli altri ancora non la sanno e questo è anche il motivo per cui nel buddismo si dice che uno dei tre grandi veleni dell'uomo è l'ignoranza che significa ignorare la verità sulla vita quando qualcuno ci fa del male noi da buddisti non reagiamo non andiamo a cercare vendetta non rispondiamo con rabbia ma semplicemente proviamo compassione perché riconosciamo nella sua cattiveria nient'altro che una sofferenza che non è mai stata compresa hai citato la prima nobile verità che è che la sofferenza esiste la seconda è che la sofferenza è una causa e tu in mezzo a questi due principi fai un capitoletto che è una domanda il titolo del capitoletto è una domanda ed è siamo biologicamente programmati per essere infelici la risposta è sì ed è per questo che il Buddha nonostante diciamo appartenesse a un mondo ben diverso dal nostro molto meno scientifico molto meno razionale lui aveva già avuto questo intuito che poi nel buddismo zen è la base di tutto questa intuizione questa illuminazione si rese conto che l'essere umano appunto in qualche modo è programmato per soffrire e infatti di nuovo questo Dukkha questa sofferenza questa insoddisfazione che lui diceva tutto è Dukkha tutto è sofferenza derivava da questa sua illuminazione dal fatto che noi siamo qui e ci viene veramente facile soffrire sembra quasi che siamo programmati per soffrire e il Buddha ha questa illuminazione non ha niente di spirituale è un'illuminazione molto razionale che infatti poi diciamo è estremamente associabile a tutto un discorso legato alla teoria dell'evoluzione e alla nostra biologia fondamentalmente noi da un punto di vista darwiniano quindi della teoria dell'evoluzione di darwin noi ci siamo evoluti fino ad essere la specie che siamo oggi perché abbiamo preso delle decisioni nel corso dei millenni che ci hanno portato a inseguire due soli obiettivi il primo è quello di sopravvivere il più a lungo possibile e il secondo è quello di riprodurci e quindi di trasmettere i nostri geni a chi verrà dopo di noi noi quindi siamo programmati per queste due cose sopravvivere e riprodurci nient'altro che questo noi non siamo programmati per essere felici perché i comportamenti che oggi ci rendono felici sono dei comportamenti che nel corso della nostra storia lunga centinaia di migliaia di anni non ci avrebbero mai permesso di sopravvivere a noi piace essere abbracciati alla persona che amiamo mentre guardiamo un tramonto bellissimo se lo avessimo fatto centomila anni fa nel giro di qualche secondo qualche predatore ci avrebbe sbranati chi è che sopravviveva centomila anni fa sopravvivevano quegli uomini quelle donne che vivevano nel terrore nell'ansia nella paura quelle persone che erano sempre allerta che erano stressate ma proprio per questo erano in grado di mettere in atto un meccanismo di combatti o fuggi e che quindi erano in grado di preservare se stessi di sopravvivere il più a lungo possibile noi siamo stati premiati per questo atteggiamento e per l'altro atteggiamento che è quello del riprodurci che è legato al desiderio l'altro diciamo grande problema tra virgolette del buddismo e quindi che cosa succede che noi oggi non abbiamo più paura di predatori non abbiamo più paura di morire di fame non ci sono più minacce dappertutto eppure il nostro cervello è programmato per ragionare in questi termini quindi noi siamo programmati non per essere felici certamente ma per vivere in uno stato di perenne paura di perenne allerta di timore di ansia ci viene molto facile essere ansiosi ci viene molto difficile essere calmi proprio per questo motivo e quindi il buddha trovando diciamo una bella intuizione in questo senso si rese conto che se vogliamo essere felici non dobbiamo tanto cambiare le cose intorno a noi dobbiamo cambiarle dentro dobbiamo fare una sorta di processo di hackeraggio della nostra biologia dobbiamo riprogrammare la nostra mente a me è piaciuto molto perché pensando a questa serata ovviamente mi sono proiettato nel futuro e la paura dell'ansia era tantissima però io con questa consapevolezza ero in un certo senso tranquillo e adesso sto pensando a hackerare il mio cervello in modo tale da non avere la paura che altrimenti avrei e quindi beh complimenti perché non è facile perché abbiamo paura di stare su un palco di fronte a delle persone e noi possiamo dar mille spiegazioni possiamo dire ad esempio possiamo dire e questo vale un po' per tutti tutte le nostre forme di turbamento io stesso sono nasco come una persona molto introversa quindi se mi avessero detto qualche anno fa ah sarai un giorno a fare 50 presentazioni in giro per l'Italia davanti a migliaia di persone avrei detto no non lo voglio fare però poi ho capito questo questa cosa del fatto che non siamo programmati per essere felici in un certo senso innesca dentro di te una sensazione di orgoglio una voglia di ribellarti a questa cosa e quindi inizi a chiederti ma se io fossi programmato per star male non fosse diciamo una cosa normale perché io effettivamente sono qui perché dovrei aver paura di essere su un palco davanti a delle persone se ci rifletti ti rendi conto che tutto alla fine si piega a questa logica della sopravvivenza e della riproduzione centomila anni fa l'uomo magari viveva nelle prime società primordiali e se tu eri una persona che veniva giudicata negativamente dagli altri membri della tua comunità venivi escluso non ti riproducevi e non sopravvivevi quindi l'atteggiamento ideale perfetto era quello di cercare di piacere a tutti ma per piacere a tutti non ti conviene stare su un palco ti conviene stare dall'altra parte quello è molto più rassicurante perché quando sei su un palco sotto i riflettori i tuoi difetti sono molto più accentuati li notano gli altri e quindi dentro di te si scatena la paura di dire guarda che noteranno i tuoi difetti e verrai escluso e non potrai sopravvivere e non potrai riprodurti quindi scappa da questo palco e vatti a nascondere da qualche parte ecco vorrei un applauso per noi sul palco a questo punto mi piacerebbe fare una riflessione sulla copertina del libro perché mi hanno sempre insegnato che fermarsi alla copertina è qualcosa di sbagliato un po' come fermarsi all'apparenza quando conosciamo qualcuno e quindi mi hanno sempre detto che è importante il contenuto mi permetto di dirti che però tu sei stato bravo in questo perché già dalla copertina si capisce benissimo un po' dove si vuole andare a parare in un certo senso al di là delle parole che abbiamo già approfondito in un qualche modo il titolo il sottotitolo è molto interessante il simbolo che tu poni al centro io non lo conoscevo inizialmente e onestamente non mi sono nemmeno posta al problema devo dire la verità poi scorrendo nella lettura mi imbatto in questa parola che è lenso quindi da curiosona lì sono andata a ricercare che cosa fosse lenso e mi è apparso proprio questo simbolo e penso che sia in un qualche modo riassuntivo di quello che poi tu vai ad indicare all'interno del libro hai voglia di raccontare insomma agli spettatori che cos'è lenso per la filosofia giapponese? Lenso è un simbolo buddista zen quindi brevemente il buddismo come abbiamo detto prima nasce in India da questo principe nepalese in India non trova spazio perché l'India aveva l'induismo che era molto più antico molto più ampio ed era impossibile da sostituire e soprattutto il Buddha dicendo non dobbiamo pensare le divinità gli dei e tra l'altro diceva le caste sono un'assurdità quindi di nuovo qualcosa che era assolutamente inaccettabile nel buddismo il buddismo rischiò di scomparire dalla faccia della terra ma grazie ad alcuni monaci temerari che decisero di partire dall'India in qualche modo raggiunsero la Cina in Cina il buddismo incontrò il taoismo e diciamo dall'unione di queste due antichissime filosofie venne fuori il buddismo zen che oggi diciamo molto diffuso soprattutto in Giappone si chiama zen in Giappone in Cina si chiamava Chan che significa meditazione questo simbolo è talmente importante che molti maestri zen hanno condotto la loro vita per un po' di anni hanno insegnato ai loro allievi quello che volevano insegnare e poi a un certo punto hanno detto sapete cosa la vita è tutta qui è in questo segno e quindi si sono ritirati e hanno iniziato a passare le loro giornate a dipingere Ienso nient'altro che questo uno dopo l'altro uno dopo l'altro e questo simbolo in un certo senso va a spiegare qual è l'essenza della vita e allora che cos'è sembrerebbe un cerchio ma è un cerchio incompleto perché incompleto perché questi maestri prendevano appunto il pennello lo poggiavano sulla tela e iniziavano questo tratto che all'inizio è molto deciso molto denso e quindi mantiene tutto il suo colore finché non scende non arriva più a una metà da metà in poi inizia a perdere ovviamente la pittura inizia a perdere l'inchiostro fino ad arrivare al punto in cui sembra perdersi completamente sembra finire ma proprio nel momento in cui sta per finire il pennello si ricongiunge all'inizio e si riparte quindi con questo cerchio che fondamentalmente è infinito Lenzo indica che questa è la natura della vita e cioè che nella vita nulla inizia e nulla finisce nulla nasce e nulla muore queste sono delle nostre idee mentali che noi abbiamo sviluppato per dare un senso alla vita perché non riuscivamo a trovarne un senso da una prospettiva zen tutte queste cose sono solo delle idee la vita non conosce inizio non conosce fine non conosce nascita e non conosce morte la vita è come un enso quando un'esperienza ci sembra che stia per finire in realtà si trasforma in qualcos'altro e questo è molto rassicurante perché gran parte della nostra paura esistenziale deriva proprio da questa nostra idea che le cose finiranno che noi moriremo che moriranno i nostri cari che oppure diciamo per restare su qualcosa di meno che ci fa diciamo che ci spaventa di meno che ci sarà un nuovo inizio nella nostra vita che dovremmo cambiare lavoro iniziare un nuovo lavoro che dovremmo uscire da una depressione dovremmo iniziare un periodo di serenità tutto questo ragionare in termini di fine e inizio inizio e fine fine e inizio contribuisce alla nostra agitazione esistenziale al nostro star male alla nostra sofferenza lenso invece è un simbolo che per me è molto rassicurante perché ci dice che non esiste inizio e non esiste fine esistono soltanto nella nostra mente e che quindi ogni volta che noi lo vogliamo proprio perché è tutto nella nostra mente perché è la mente a creare la realtà noi possiamo dare un nuovo inizio o possiamo decidere per la fine di qualcosa oppure possiamo fare qualcosa di ancora più saggio di ancora più elevato e bello e cioè smettere di ragionare in questi termini renderci conto che l'unica cosa che esiste nella vita è questo momento non c'è futuro e non c'è passato c'è questo momento c'è questo luogo e c'è una vita da vivere quando noi entriamo in quest'ottica ci rendiamo conto che se la vita stessa è eterna e noi ne facciamo parte anche noi siamo eterni non siamo mai nati e non moriremo mai semplicemente ci continueremo ad evolvere esattamente come questo simbolo che nel momento in cui sta per finire diventa qualcos'altro vale per noi vale per le persone che muoiono e che noi crediamo di aver perso vale per le cose che perdiamo le situazioni i momenti vale per tutto quanto la vita non conosce inizio e non conosce fine la vita evolve e se noi decidiamo di evolvere con la vita diventiamo noi stessi noi stessi vita e iniziamo a vivere veramente con più serenità grazie allora per continuare a dare questa circolarità anche alle nostre domande tu hai appena parlato di taoismo comunque l'hai citato e prima parlavi del Buddha che a un certo punto smettò di smise scusate di fare e esiste nel taoismo questo termine nel Wu Wei che significa proprio questo non fare la filosofia buddista si appoggia molto a questo concetto di negazione ogni tanto e dice come per arrivare alla verità tu debba sottrarre non aggiungere e dato che appunto avendo viaggiato nella mia vita tu ti trovi molto spesso a fare queste considerazioni del togliere non aggiungere e magari va un po' fuori dal discorso che stiamo facendo ma mi andava di chiedertelo che impatto ha avuto su di te il il minimalismo un concetto secondo me molto importante che andrebbe approfondito e che qua esattamente si fa l'opposto in occidente il minimalismo è stato molto importante anche prima di conoscere il buddismo perché diciamo che è stata come dicevi tu una scelta un po' obbligata quando vivi la vita che vivo io non puoi sicuramente portarti dietro la casa ogni volta che ti sposti visto che ti sposti così frequentemente allora inizi a ragionare in maniera molto diversa rispetto al modo più comune di ragionare non pensi sempre a quello che ti manca a quello che vorresti a cosa potresti portare nella tua vita a come potresti arricchirla arricchirla abbellirla riempirla ma inizi a ragionare in maniera diversa ti rendi conto che parte della tua felicità del tuo star bene deriva dal cercare di tenere le cose essenziali perché hai deciso di vivere una vita in cui le esperienze sono molto più importanti delle cose e visto che tu vuoi vivere a pieno le esperienze non puoi avere un bagaglio troppo pesante non puoi avere uno zaino sulle tue spalle pieno di cose perché questo ti impedirebbe di godere dell'esperienza del viaggio quindi è stata in parte una scelta obbligata che però mi ha aperto gli occhi su molte cose perché il minimalismo nasce come un modo di prendere la vita alla ricerca del meno si basa su questa idea per cui meno è meglio e non è assolutamente vero che più cose abbiamo è meglio stiamo più cose abbiamo nella nostra vita e più responsabilità abbiamo più cose a cui pensare abbiamo più paura di perderle abbiamo più caos si viene a formare intorno a noi e dentro di noi quindi il minimalismo è questa idea per cui se noi manteniamo le cose essenziali tutto diventa più gestibile tutto è più ordinato ogni cosa è più chiara e quindi riusciamo a prendere anche delle decisioni più sagge e soprattutto a trovare lo spazio il tempo e il modo per vivere la vita basandoci sulle esperienze e non sul possesso delle cose in che modo questo è collegato al buddismo sia da un punto di vista esterno perché chiaramente i monaci buddhisti non possono possedere nulla tutto quello che loro hanno è di proprietà del monastero loro hanno anche lo smartphone hanno degli oggetti ma comunque tutto di proprietà del monastero nemmeno la tunica che indossano è loro questo perché? perché questo li aiuta a rimanere concentrati su quello che conta davvero e cioè la ricerca spirituale ma il minimalismo applicato al buddismo dal mio punto di vista è una questione interiore e renderci conto che non è soltanto il numero di cose che possediamo a determinare come ci sentiamo ma è anche il numero di pensieri il numero di desideri il numero di attaccamento che noi abbiamo nei confronti di vari fattori esterni il numero di emozioni il numero di ricordi tutto quello che noi abbiamo dentro non deve essere per forza tanto deve essere giusto che è una cosa molto diversa e allora il minimalismo si sposa perfettamente con il buddismo perché quando noi seguiamo un percorso buddista come scrivo nel libro smettiamo di avere questa visione occidentale per cui la felicità è una montagna da scalare e quindi noi ogni giorno siamo lì affaticati a guardare la cima a desiderare di essere lassù c'è qualcuno che è partito prima di noi c'è qualcuno che ha dei mezzi diversi dai nostri delle scarpe migliori che si può trasportare in elicottero sulla cima noi quindi siamo invidiosi facciamo il paragone c'è qualcuno che è più in forma di noi nel buddismo la montagna non va scalata la montagna va scavata cioè noi dobbiamo iniziare a eliminare detriti 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 dalla nostra interiorità dalla nostra mente soprattutto finché non abbiamo eliminato ogni forma di pensiero superfluo e nocivo e a quel punto che cosa ci rimane uno potrebbe dire non ci rimane nulla ma è proprio in quel nulla che si sviluppa la serenità buddista perché il buddha diceva che la prima grande verità è che la sofferenza esiste che la seconda grande verità è che la sofferenza ha una causa e la terza verità è che la sofferenza può essere superata ma come? non aggiungendo qualcosa perché questo contribuisce alla nostra sofferenza la seconda grande verità dice che la sofferenza ha una causa e qual è questa causa? il desiderio noi diciamo io non sono felice perché mi manca qualcosa che non ho quando avrò qualcosa che non ho sarò finalmente felice e questo modo di ragionare ci rende perennemente infelici no il buddha ci dice di nuovo in una maniera rivoluzionaria fermiamoci e iniziamo a eliminare le fonti di sofferenza dalla nostra vita questo è un processo minimalista invece di andare ad aggiungere qualcosa invece di andare a cercare un antidoto al veleno noi facciamo un viaggio dentro noi stessi per andare proprio a estirpare il veleno da dentro di noi e questo è un processo minimalista che possiamo fare inizialmente esternamente eliminiamo tutte le cose che non ci servono e poi lo possiamo fare anche da un punto di vista relazionale ci sono delle amicizie dei colleghi delle persone che vediamo ogni giorno che ci trascinano verso il basso non siamo obbligati a frequentarle e poi lo possiamo fare e questa è la cosa più importante con i nostri pensieri non siamo costretti a pensare tutto il tempo tutti i giorni va bene pensare ma dobbiamo pensare quando è necessario e dobbiamo cercare di avere una mente che sia ordinata come un tempio zen ottimo è bellissima questa immagine che doni della montagna e di come i due termini lo scalare e lo scavare siano così simili ma cambia letteralmente una lettera e il senso di tutto quanto cambia profondamente il linguaggio è qualcosa che fa sempre molto discutere è sempre oggetto di polemiche proprio per questo perché noi siamo abituati a pensare che contano solo i fatti quando invece il linguaggio è estremamente importante perché moltissimi conflitti incomprensioni nascono proprio dalla mancanza di comunicazione e tu dedichi un intero capitolo all'interno del libro alla parola all'uso consapevole della parola alla retta parola buddista hai voglia di raccontarci qualcosa di questo capitolo? mi colpì molto il fatto che in questo percorso indicato dal Buddha che si basa diciamo su otto aspetti di noi stessi che dobbiamo monitorare e cambiare quando si spostano verso gli estremi la parola venisse prima ancora dell'azione quindi secondo il Buddha è ancora più importante quello che noi diciamo rispetto a quello che facciamo o meglio viene prima e questo perché perché molto spesso noi andiamo a creare la realtà attraverso la parola specialmente quando diciamo delle bugie in quei casi noi cerchiamo di mistificare la realtà perché? perché non siamo in grado di accettarla per quello che è e quindi non siamo in grado di partire da una base di verità ma vogliamo che sia come la vogliamo noi non accettando la realtà noi proviamo a modificarla con le parole e quando non ci riusciamo le nostre parole diventano violente diventano oppressive diventano cattive quando noi diciamo qualcosa di sgradevole e di violento nei confronti di qualcun altro molto spesso è perché vogliamo che quella persona faccia quello che vogliamo noi e quindi usiamo la parola per provare a modificarla in realtà un tentativo che magari a volte ci sembra funzionare ma che alla fine è vano perché questo modo di agire non ci porta ad altro che sofferenze infatti anche quando noi riusciamo a costringere qualcuno a fare quello che vogliamo noi non otteniamo il suo rispetto il suo amore la sua presenza noi otteniamo soltanto la sua paura e la otteniamo quasi sempre attraverso la parola il Buddha diceva è fondamentale il modo in cui voi parlate e la parola finché sia retta deve avere tre caratteristiche la prima è che deve essere onesta bisogna smettere di dire bugie bisogna per l'appunto accettare la vita per quello che è invece di continuare a desiderarla per ciò che vorremmo che fosse la retta parola è accurata noi dobbiamo dire le cose per ciò che sono dobbiamo essere molto chiari quando parliamo perché se noi diamo agli altri la possibilità di interpretare la nostra parola finiamo all'interno di discussioni litigi confondiamo gli altri confondiamo noi stessi quindi noi dobbiamo parlare in una maniera minimalista in un certo senso parlare meno ma dire le cose come stanno pensare bene a quello che diciamo ogni nostra parola nel buddismo c'è questo concetto di karma che è fondamentale che è composto dal nostro pensiero dalla nostra parola e dalla nostra azione quindi ogni nostra parola ha una ripercussione sull'intero universo e su noi stessi quindi scegliamo con cura le nostre parole e infine che secondo me è la cosa più bella e importante la retta parola deve essere gentile noi dobbiamo cercare di essere gentili nei confronti degli altri anche verso chi non è gentile nei nostri confronti ma soprattutto dobbiamo cercare di essere gentili verso noi stessi non ci rendiamo conto di quanta sofferenza noi causiamo a noi stessi perché parlando di noi agli altri o anche semplicemente diciamo magari anche scrivendo anche quella viene considerata parola noi diamo una visione di noi stessi un'immagine di noi stessi orribile ci descriviamo in un modo pessimo siamo severi siamo i nostri giudici più severi i nostri hater più perfidi dobbiamo cercare di essere gentili con la parola nei nostri confronti ad esempio guardarci allo specchio al mattino e dire ce la stai mettendo tutta ci stai provando ti apprezzo per questo e in un certo senso ti posso assicurare che sei sulla strada giusta dovremmo avere la forza di guardarci allo specchio e dire a noi stessi ti voglio bene perché ce la stai mettendo tutta sembra qualcosa di sciocco ma riuscire ad avere il coraggio di pronunciare queste parole apparentemente imbarazzanti è già un primo passo verso qualcosa di meraviglioso e cioè un processo di amor proprio c'è un altro aspetto che sicuramente la meditazione ti ha insegnato è quello del controllare il proprio respiro tu dici che il respiro dice molto di noi chiaramente adesso il mio respiro è molto più rilassato dell'inizio quindi penso che anche le persone abbiano capito magari il mio stato di agitazione iniziale e tu dici che il respiro è uno scambio un momento in cui il nostro mondo interiore riesce a connettersi con quello che c'è all'esterno in che modo sei riuscito nel tempo attraverso la meditazione a controllare il tuo respiro e se hai qualche magari suggerimento pratico da consigliare alle persone presenti in sala insomma per affrontare quei momenti duri della vita che può essere un esame un esame un colloquio di lavoro insomma quei momenti in cui siamo agitati e ci manca letteralmente il respiro il buddismo ci insegna a controllare noi stessi attraverso il controllo dei nostri pensieri e delle nostre emozioni ma cosa succede quando noi siamo all'inizio di questo percorso e non ne siamo in grado non siamo costretti a soffrire ad avere l'ansia a farci lacerare dagli attacchi di panico se non siamo ancora in grado di controllare noi stessi da dentro possiamo in un certo senso controllare noi stessi da fuori cioè a livello proprio corporeo e lo facciamo attraverso il respiro che è un ponte che collega la nostra interiorità al mondo esterno perché quando noi respiriamo prendiamo qualcosa che c'è fuori lo tratteniamo dentro di noi per un po' e poi lo rilasciamo nel mondo fuori quindi è un continuo scambio tra dentro e fuori dentro e fuori è l'unico ponte che esiste tra quello che c'è di qua rispetto a quello che c'è al di qua ci sono varie tecniche diciamo così che diciamo con la meditazione tu impari non a controllare il respiro ma a osservarlo e questo cosa significa che noi respiriamo circa 21.000 volte ogni singolo giorno ma lo facciamo quasi sempre in maniera inconsapevole cioè noi non ci rendiamo conto che respiriamo respiriamo e basta esattamente come il nostro cuore batte come il sangue gira nelle nostre vene nelle nostre arterie come il nostro cervello va per i fatti suoi senza che riusciamo a controllarlo ma cosa succede quando noi invece di invece di respirare in maniera involontaria iniziamo a concentrarci sul respiro che non significa provare a cambiarlo ma semplicemente osservarlo quindi io mi fermo un attimo e osservo come respiro presto attenzione al modo in cui respiro sono agitato respiro lentamente che cosa succede? quando noi osserviamo il respiro è come se proiettassimo nell'oscurità un faro una luce e quindi illuminassimo qualcosa che improvvisamente scopre di essere illuminato di essere osservato il semplice fatto di osservarlo scusate il semplice fatto di osservarlo lo cambia lo calma quindi la meditazione funziona in questo modo ma di nuovo se non riusciamo a meditare se siamo alle prime armi se ci sembra qualcosa di troppo lontano da noi che cosa possiamo fare? io nel libro ho inserito delle tecniche che non sono buddiste ma che anzi sono frutto di diciamo mie ricerche personali e esperimenti anche su me stesso uno di questi si chiama il quadrato è qualcosa che io utilizzo quando mi trovo in situazioni particolarmente ad alta tensione oppure sto per partecipare a qualcosa che mi agita e il quadrato è molto semplice funziona così noi inspiriamo per quattro secondi tratteniamo il respiro per quattro secondi espiriamo per quattro secondi tratteniamo il vuoto per quattro secondi quindi facciamo un quadrato e lo possiamo fare per otto dieci volte questo già ci aiuta a calmarci perché? perché andando a controllare il respiro noi in un certo senso abbiamo non l'impressione noi effettivamente riusciamo a controllare qualcosa perché ci agitiamo nella vita? perché la vita ci appare troppo imprevedibile ci appare incontrollabile noi vorremmo che le cose andassero in un certo modo ma vanno sempre in un altro modo da un momento all'altro può succedere qualsiasi cosa e questa consapevolezza ci divora ci fa vivere nell'ansia più totale che cosa possiamo però sempre controllare? ben poche cose se siamo dei buddisti esperti dei meditatori esperti la nostra mente se non lo siamo però il respiro lo possiamo controllare sempre e di nuovo lo possiamo controllare in ogni situazione che siamo davanti ad altre persone se siamo da soli se siamo sulla cima di una montagna se siamo sdraiati nel letto di un ospedale il respiro è sempre qualcosa sotto il nostro controllo quindi controllando il respiro noi guadagniamo fiducia e questo è un ottimo esercizio un altro esercizio che non ho inserito nel libro perché volevo che il lettore si concentrasse un po' sulla meditazione questo è molto utile se iniziate ad avere molta agitazione dentro di voi magari avete l'impressione che un attacco di panico stia per scatenarsi dentro di voi in realtà uno dei due metodi l'ho messo che è quello di sdraiarsi basta fare questo all'improvviso senza pensarci voi vi sdraiate e questo cambiamento di posizione di postura proprio da verticale a orizzontale manda in cortocircuito il nostro cervello il nostro cervello si chiede cosa sta succedendo perché cambia la pressione sanguigna cambia il modo in cui la gravità agisce sul nostro corpo cambia tutto e quindi il nostro cervello non può più pensare a se stesso e quindi andare nel panico ma deve cercare di capire cosa sta succedendo intorno distoglie l'attenzione dal panico stesso e quindi smette di alimentarlo ma non possiamo sempre sdraiarci e quindi c'è questa tecnica che io trovo che funzioni molto bene che funziona così per 5 o 6 volte non di più perché poi se no rischiate di andare in iperventilazione fate due respiri due inspirate due volte velocemente ed espirate una volta lentamente quindi fate una cosa di questo tipo e lo fate 5 o 6 volte questo è un modo di controllare il respiro che è sempre sotto il nostro controllo un po' più diciamo brutale rispetto al quadrato che è una cosa un po' più armoniosa ma quando siamo veramente in difficoltà vi consiglio di provarci perché io ho notato che funziona e io aggiungerei un'altra cosa che mi è venuta in mente se c'è una cosa che possiamo controllare come dici giustamente tu è il qui e ora che secondo me è un concetto bellissimo e tu nel libro spieghi come se chiedi a qualcuno perché soffre lui in quel momento in realtà non sta soffrendo sta proiettando il suo pensiero o al futuro o al passato e quindi in questo senso anche la meditazione ti può aiutare molto a sollevarti dai pensieri a focalizzarti sul respiro che è molto importante sì l'idea buddista è che noi pensiamo che le fonti di sofferenza siano esterne noi pensiamo di soffrire perché qualcuno ci ha fatto qualcosa perché è successo qualcosa ma in realtà la sofferenza nasce da noi la sofferenza anche se non vogliamo accettarlo anche se ci sembra spiacevole questa stessa idea è una nostra scelta che noi possiamo cambiare in che modo innanzitutto imparando a essere presenti imparando a vivere questo luogo e questo momento con la massima intensità perché ogni volta che noi soffriamo soffriamo a causa dei nostri pensieri e i nostri pensieri sono sempre proiettati o in avanti o indietro soffriamo perché vorremmo che qualcosa che è successo fosse andato diversamente soffriamo perché abbiamo paura che qualcosa che è successo possa succedere di nuovo soffriamo perché avremmo voluto prendere delle decisioni diverse soffriamo per cose che sono già passate e che non si possono più cambiare e quindi in un certo senso soffriamo per nulla perché questa sofferenza non ci porta a risolvere le cose soffriamo per il futuro perché immaginiamo come potrebbero andare le cose ma molte delle nostre preoccupazioni non si concretizzano mai e ci sono tante persone che arrivano alla fine dei loro giorni si guardano indietro e pensano quanti anni della mia vita io ho sprecato immaginandomi scenari terribili che poi non si sono mai verificati e quindi tutto quel tempo che io ho passato a stare in ansia per qualcosa che poi non si è verificato è stato tempo sprecato quindi noi dovremmo cercare di vivere in quest'unico momento che esiste che è il presente ed è una cosa estremamente difficile da fare però è necessaria perché nel presente le nostre sofferenze si riducono veramente a una fiammella o addirittura a nulla nel momento presente non essendoci di mezzo il pensiero di qualcosa che è stato di qualcosa che potrebbe esserci noi semplicemente viviamo noi semplicemente siamo ciò che siamo all'interno di questo momento e questa nostra capacità di essere ancorati a quello che sta succedendo alla vita ci permette di essere molto più sereni e soprattutto di capire che non è colpa degli altri se stiamo male ma è colpa dei nostri pensieri nei confronti degli altri che non è colpa di quello che è successo o succederà ma è colpa dei nostri pensieri nei confronti di quello che è successo e succederà in un certo senso quindi si potrebbe dire che essere presenti significa spegnere il cervello non è così anche perché non si può spegnere il cervello e però la consapevolezza che il pensiero è utile ma che bisogna tenerlo sotto controllo che dobbiamo essere noi a indirizzare il pensiero dove vogliamo e che non dobbiamo essere guidati dal nostro pensiero fuori controllo il pensiero è utile nel momento in cui ci aiuta in questo momento e in questo luogo quando ci porta via da questo momento e questo luogo ci conduce inevitabilmente alla sofferenza c'è un'ultima domanda che vorrei porti perché poi mi piacerebbe lasciare spazio insomma questo evento è un po' puntato al focus su quello che vuole essere il dialogo fra le persone quindi ci piacerebbe tanto sia me che Elia che le persone del pubblico si sentissero insomma di farti qualche domanda quindi vorremmo lasciare questo spazio anche a loro quindi vorrei porti quest'ultima domanda tu nel libro parli di karma il karma è un termine che noi utilizziamo nel nostro gergo che è entrato a tutti gli effetti insomma nel nostro linguaggio ma lo usiamo a mio avviso in modo sbagliato improprio pensiamo che il karma sia qualcosa di punitivo in un certo senso facciamo qualcosa tanto il karma ti ridarà indietro quello che insomma hai fatto ci doneresti diciamo una definizione esatta precisa di che cos'è il karma non è semplice dare una definizione precisa perché il karma nasce nell'induismo che ha una visione anche dello stesso karma molto diversa dal buddismo poi nel buddismo il karma a sua volta ha un'interpretazione diversa in base alla scuola alla dottrina posso dare la mia interpretazione che è fortemente basata sull'interpretazione zen del karma e cioè che fondamentalmente nello zen c'è questa idea a cui ho già accennato più volte questa sera che noi non stiamo male non ci sentiamo in un certo modo in base a quello che succede ma in base a quello che succede dentro di noi non è tanto importante quello che succede è importante come ci sentiamo perché come ci sentiamo dipende da noi karma significa azione e non è una vendetta cosmica non è l'universo che va a sistemare le cose e a punire chi si è comportato male nei nostri confronti karma significa azione e si basa su quest'idea per cui il modo in cui noi ci sentiamo dipende da quello che facciamo karma però non ha soltanto l'azione al suo interno è composto da tre elementi che sono i nostri pensieri la nostra parola e la nostra azione quindi se noi vogliamo stare meglio se noi vogliamo vivere una vita migliore non dobbiamo minimamente preoccuparci di cambiare le cose intorno a noi da una prospettiva buddista dobbiamo preoccuparci di cambiare questi tre elementi di curare i nostri pensieri di curare la nostra parola e di curare la nostra azione e questo è un ribaltamento di prospettiva immenso perché noi siamo abituati per l'appunto a credere che la qualità della nostra vita dipenda da quello che ci succede e quindi di nuovo noi ci stiamo affidando a qualcosa di esterno possiamo credere che magari sia Dio a rendere la nostra vita miserabile o fantastica possiamo credere che sia tutta una questione di caso di fortuna o di sfortuna possiamo credere che sia merito o colpa degli altri dei fattori esterni indipendentemente dalla causa da ciò che gli anima in ogni caso è tutto proiettato all'esterno verso questo mondo che è assolutamente fuori dal nostro controllo è incontrollabile e imprevedibile mi piace del buddismo che rimette tutto nelle nostre mani che ci dice la felicità è una tua responsabilità dipende da te e come fai a lavorare sulla tua felicità non cercando di sistemare le cose intorno a te ma cercando di sistemarle dentro se non sai da dove partire parti dai tre elementi del karma prenditi cura dei tuoi pensieri e quindi medita e quindi cerca di curare e di far crescere i pensieri nobili i pensieri positivi i pensieri che portano all'unità a discapito dei pensieri che portano alla divisione all'odio alla sofferenza prenditi cura della tua parola e quindi di nuovo la tua parola dovrebbe essere sempre accurata onesta e gentile e poi agisci in modo retto e che cosa significa agire in modo retto significa che in tutte le situazioni della vita noi abbiamo sempre una scelta anche in quei momenti in cui la vita sembra averci messo con le spalle al muro anche quando ci sembra di non avere nessuna scelta di non avere alcun tipo di libertà d'azione noi abbiamo sempre una possibilità e questa nostra possibilità è se agire con odio con rabbia con desiderio di vendetta con paura oppure se agire con amore con una forma di amore che vada che sia rivolta alla vita che sia rivolta agli altri che sia rivolta a noi stessi se noi ci sforziamo di agire con amore in ogni situazione della vita il nostro karma cambia diventa positivo e questo che cosa significa che senza aver modificato assolutamente nulla intorno a noi ma avendo lavorato soltanto su noi stessi sui nostri pensieri sulla nostra parola e sulla nostra azione noi riusciamo a essere felici grazie lascerei spazio adesso alle vostre domande ricordandovi che c'è un microfono a disposizione all'interno della sala quindi chiederei gentilmente alle persone che magari hanno intenzione di fare delle domande e sono seduti sopra in galleria di scendere al piano di sotto così mettiamo a disposizione nel microfono nessuno? di solito ci vuole un po' per la prima domanda e poi dopo arrivano ciao prova 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 sì ciao Gianluca volevo farti una domanda io ho letto il tuo libro e l'ho trovato molto interessante per quanto riguarda un punto di vista occidentale il buddismo viene sempre legato alla religione e quindi proprio al Dalai Lama come capo spirituale quindi a un filone più tantrico se vogliamo e quindi più legato proprio anche a un buddismo tibetano vorrei come spieghi nel libro che spiegassi alle persone quello che tu chiami una religione non religione o comunque come il buddismo può essere inteso non solo come religione ma come stile di vita il buddismo appunto può essere inteso in entrambi i modi dal mio punto di vista per quello che è stato il mio percorso quindi con il buddismo zen non può essere inteso come religione perché non ha nessuno degli elementi di una religione tralasciando il fatto che neanche nel buddismo tibetano che è quello più religioso quello del Dalai Lama viene preso in considerazione Dio quindi anche in quel buddismo non si parla di Dio non si parla delle divinità non si parla della vita dopo la morte in termini di paradiso di inferno se non in una maniera puramente metaforica e quindi togliendo questo viene secondo me meno quasi ogni aspetto religioso nel buddismo zen è tutto riportato molto di più proprio a questo momento a questo luogo non lo vivo come una religione perché per come mi è stato insegnato per come mi è stato mostrato è molto più simile a una pratica quotidiana qual è lo scopo di un buddista non è di accontentare Dio non è di quello di lavorare per poter andare in paradiso lo scopo di un buddista è quello è molto semplice è quello di diminuire il più possibile la sofferenza dentro di noi come primissima cosa e poi di aiutare gli altri a fare lo stesso e noi per portare avanti questo lavoro per portare avanti questa missione lunga un'intera vita non abbiamo bisogno di una religione e non abbiamo bisogno nemmeno di un leader spirituale tant'è che nel buddismo zen non esiste un Dalai Lama non esiste un Papa non esiste un Dio non esiste un profeta esiste ognuno di noi ci siamo noi ci siamo noi con il nostro karma quindi con i nostri pensieri la nostra parola la nostra azione e ci siamo noi che non possiamo cambiare il mondo ma possiamo cambiare noi stessi e cambiando noi stessi noi possiamo cambiare il mondo tutto viene riportato nelle mani della singola persona e questa può sembrare una responsabilità spaventosa all'inizio per me lo è stato perché improvvisamente ti rendi conto di non poter dare la colpa a nessuno non a Dio non al tuo maestro a nessuno come ti senti dipende da te ma quando ti abitui a questa idea diventa bellissimo perché improvvisamente non dipendi più da nessuno il modo in cui ti senti dipende da te e questo è qualcosa che ho apprezzato tantissimo e che trovo molto più legato a una sfera di crescita personale e di pratica quotidiana per l'appunto rispetto a una sfera religiosa grazie perché chiunque può essere un Buddha esatto questo è il discorso e lo può essere anche una persona che crede in Dio quindi la trovo molto bella questa cosa perché non si può dire un musulmano non può dire a un cristiano tu puoi essere cristiano e musulmano o sei una cosa o sei l'altra mentre nel buddismo tu puoi essere cristiano e buddista perché il tuo essere cristiano dipende da una tua credenza in qualcosa mentre il tuo essere buddista non dipende da qualcosa in cui credi ma da qualcosa che hai visto dipende dalla verità dalla verità inconfutabile e la verità inconfutabile è che la sofferenza esiste riguarda ognuno di noi e il nostro compito è di alleviarla se poi tu questo lo vuoi fare seguendo un percorso di un certo tipo se tu lo vuoi fare con una visione atea o se lo vuoi fare con una visione religiosa non ha nessuna importanza tu puoi essere un Buddha da ateo o puoi essere un Buddha da cristiano da musulmano da hinduista e quindi questa è una cosa che io amo del buddismo perché non crea alcun tipo di divisione ma non fa altro che riunire tutta l'umanità a questa nostra stessa umanità che coinvolge ognuno di noi se non ci sono altre domande vogliamo ricordare che al termine di questo incontro ci sarà il firmacopio quindi potrete parlare direttamente con Gianluca e porgli delle domande noi per concludere questo incontro dato che abbiamo fatto una ricerca anche su come presentarlo vedendo altri tuoi interventi ne abbiamo visto uno che hai fatto di recente a Catania e ci ha colpito molto la parte finale dove la relatrice ha letto un passo del tuo libro che noi oggi ti volevamo chiedere se ti andava di leggere per noi per chiudere l'incontro la leggo volentieri perché questa è un po' la chiusura del cerchio anche per me del mio percorso sicuramente una chiusura che come dicevamo prima poi non è altro che un nuovo inizio un giorno durante un breve soggiorno a Lanzarote isola vulcanica delle Canarie mi ritrovai a non riuscire a dormire stava capitando più di frequente e per quanto mi impegnassi a seguire nel modo più rigoroso possibile l'ottuplice nobile sentiero e meditassi con la massima regolarità dentro di me stava emergendo la paura che sarei ripiombato nell'incubo di qualche tempo prima perché riuscivo a fare tutto ma non a essere presente quella notte mi alzai dal letto cercando di non fare rumore per non svegliare Claudia il nostro piccolo bungalow bianco si trovava ai margini del deserto poco lontano dal vulcano Timanfaia in quella zona dell'isola la sabbia è nera vulcanica e nell'aria si percepisce un'energia diversa che ha qualcosa di primordiale uscì sul terrazzo c'era una bellissima mezzaluna che insieme a milioni di stelle illuminava un cielo senza nuvole spazzate via dal vento che tirava anche a quell'ora non mi dava fastidio comunque non l'avrei mai immaginato ma la cosa che più mi aveva dato il buddismo fino a quel punto della mia vita era la capacità di non dare troppo peso a quello che mi succedeva intorno non soffrire troppo per gli avvenimenti esterni per molti questo è un traguardo immenso e lo era anche per me però io avevo qualcosa dentro che non riuscivo a risolvere il mio problema non era fuori era radicato in me mi sedetti per terra stavolta non con le braccia incrociate ma tenendole tra le braccia non con le gambe incrociate ma tenendole tra le braccia guardai il cielo così luminoso cercai l'orizzonte ma non c'erano luci artificiali e davanti a me vedevo ben poco il deserto scarsamente illuminato dalla luna la cui parte più lontana si perdeva nell'oscurità pensai di provare a stabilire il mio record di meditazione potevo incrociare le gambe chiudere gli occhi respirare e vedere per quante ore riuscissi a restare così forse mi avrebbe aiutato a raggiungere il nirvana come per Siddhartha Gautama che divenne il Buddha quando si sedette sotto al ficus e meditò per 49 giorni consecutivi forse provare qualcosa del genere mi avrebbe condotto alla liberazione che tanto desideravo mi avrebbe aiutato a essere presente qui e ora sempre però non lo feci ero stanco da molti mesi non facevo che studiare soluzioni a quel mio malessere mi ero impegnato così tanto nel cercare di diventare una persona più zen nell'essere un Buddha nel meditare a occhi aperti e a occhi chiusi e tutto questo mi era servito aveva funzionato ma solo in superficie sì avevo una visione più retta pensavo meglio parlavo nel modo giusto agivo con amore e tutto ciò che implica seguire l'ottuplice nobile sentiero però in profondità il malessere continuava a ribollire sul fondo del pentolone e io non riuscivo a metterci le mani dentro per toglierla quella notte decisi che ne avevo abbastanza mi ero portato dietro un libro sul buddismo l'ennesimo che avevo comprato e stavo leggendo e sottolineando in ognuno di quei libri cercavo un segreto per essere felice sempre la soluzione definitiva e invece ci trovavo moltissime cose interessanti ma non la risposta che avrei voluto mi rigirai il libro tra le mani avevo pensato di mettermi lì fuori accendere una luce e leggere tutta la notte invece lo posai per terra lontano da me poi rimasi a lungo a guardare il cielo c'era una frase del Buddha che mi tornava spesso in mente in quei giorni non tra le nuvole né in mezzo al mare e neppure nel cuore della montagna esiste un posto su questa terra dove il male non ti possa raggiungere era vero ma cosa potevo fare pensai a Kento just be aveva detto alla ragazza con l'attacco di panico come si fa la mia voce era leggermente incrinata mi rivolgevo a Kento ma in realtà parlavo al cielo le mie parole comunque se le portava via il vento mi venne in mente che una delle prime volte che parlai con Kento lui mi disse fai troppe domande la risposta che cerchi non esiste il buddismo è semplice lo zen è semplice se sai sederti e accettare la vita per quello che è puoi fare qualsiasi cosa mi resi conto avvolto nella notte sopra quell'isola vulcanica che avevo imparato tantissime cose e avevo sviluppato molte abilità ma non quella mi guardai intorno quale occasione migliore per provarci mi zitti e ascoltai il vento che riempiva il silenzio della notte non volevo rientrare non volevo meditare non volevo leggere non volevo niente se non starmene lì starmene lì e basta in santa pace la noia arrivò arrivarono pensieri di ogni tipo il mio obiettivo era non avere obiettivi non volevo più nemmeno essere felice o smettere di essere infelice volevo starmene lì sotto al cielo stellato con i miei capelli sciolti e la mia barba accarezzati dal vento volevo essere quel luogo diventare quel momento ebbi paura tanta tantissima paura della notte del vento della vita dei miei pensieri che ora scorrevano come un fiume in piena della solitudine del futuro del passato che tornava presente ma io decisi di essere anche quella paura lasciai che prendesse possesso di me iniziai a tremare non per l'aria fredda prima le gambe poi le mani poi tutto sapevo che se avessi controllato il respiro se avessi meditato se avessi fatto qualcosa tutto sarebbe tornato sotto controllo ma non era quello che volevo non volevo niente lasciai che la bestia entrasse nelle stanze del mio essere la senti ruggire annusare l'aria muoversi minacciosa e alla fine andarsene grazie signore e signori Gianluca Gotto grazie a nome di tutti è stata bellissima una grande emozione per tutti mi sento di poter dire vogliamo mangiarti Gianluca con questa borsa fatta dal Bottegone l'associazione di esercenti di Dronero della Valle Maira con dentro alcuni dei prodotti tipici locali di Dronero grazie di cuore a tutti grazie per l'ospitalità grazie per concludere visto che siamo tanti e lo spazio è poco ci sono alcune regole semplici per il firmacopio vi chiedo di fare una fila davanti al tavolo dove è possibile acquistare i libri e di conseguenza poi ci sposteremo per la fiera